Gli studenti di Avellino in piazza per chiedere giustizia per Federico Petrone, il 19enne ferito a contrada con un colpo di pistola da un coetaneo al termine di una lite. Hanno sfilato dall'istituto amabile fino al tribunale e hanno ribadito il loro no alla violenza. Avellino non è mai stata una città che è stata definita una città violenta e quindi questi episodi devono essere strongati sul nascere. Ci siamo resi conto che la criminalità, il pericolo, la violenza stanno aumentando sempre di più in questa città, che pensavamo fosse tranquilla. Poi quando colpiscono, a prescindere un tuo amico, ci è venuto naturale muoverci in segno di solidarietà. Da una parte vi sono una miglior prevenzione nei confronti di questi crimini e dall'altra vengono effettivamente assicurate pene, in modo tale che vi sia la sicurezza nella nostra città. Presente anche il fratello di Federico, Amato Petrone, che ha contestato la versione degli avvocati dell'indagato attualmente ai domiciliari. È inutile far passare una vittima per aggressore, ecco quando sappiamo benissimo che mio fratello è stato contattato per dei chiarimenti, chiamiamoli così, che sarebbero dovuti avvenire secondo il ragazzo sotto casa sua. Poi purtroppo siamo stati fermati prima, ecco. C'è uno striscione che è significativo dove si dice no comorra perché forse stanno prendendo un po' troppo spunto da questa serie televisiva. Il questore Luigi Botte intanto sulla recrudescenza di criminalità in città invita a non drammatizzare. Se lo facciamo rischiamo di innescare solo uno spirito di emulazione tra i giovani.